e di insidiosi minacci. La guardia di finanza del terzo millennio si è evoluta da polizia del futuro e del confine a polizia economica e finanziaria con particolari competenze per la tutela delle imprese e delle uscite pubbliche nonché per la tutela del mercato dei capitali e di quello dei beni e servizi sviluppando investigazioni anche internazionali